Domenica 7 luglio a Castellabate si svolta la Gran Fondo Golfo di Castellabate, manifestazione di nuoto in acque libere, valevole come terza tappa del circuito Gran Fondo Italia, dove ha trionfato il salernitano Alfredo Sacco. Scenario splendido quello dell'area marina protetta di Santa Maria di Castellabate, che ha ospitato l'evento di 15 chilometri promosso dal circuito NAL con l'associazione Punta Tresino, in collaborazione con l'associazione Sintesi SSD e con il supporto del circolo Canottieri Agropoli e dello sponsor ufficiale EGE. Nella stessa giornata inoltre sono andate in scena anche delle prove su distanza corta 800, 400, 600 e 200 per i bambini al fine di promozionare questa specialità sportiva. È stata la mia prima esperienza di 15 chilometri, sono rimasto più che soddisfatto per aver portato a casa il primo posto. È stata una gara impegnativa comunque non solo fisicamente ma anche mentalmente, comunque 15 chilometri non sono pochi e appunto essendo la prima volta ho dovuto imparare anche a gestire le forze. È stata una bella organizzazione, il posto è magnifico, c'è in un'acqua incredibile e le condizioni sono state ottimali, tranne a San Marco che abbiamo trovato appunto corrente contraria e all'altezza di Santa Maria ma fortunatamente grazie anche un buon canoista che si chiama Giuseppe e siamo riusciti a superarlo che mi ha dato una grande mano. Terzo classificato dopo un 92 e un 99, io sono un 68 quindi va benissimo proprio, bella soddisfazione, bella gara, complimenti a voi che l'avete organizzata, mare spettacolare come tutte le manifestazioni che organizzate voi NAL. Che dire, perfetto, ospitalità eccezionale, ieri ci avete ospitato a cena, oggi anche a pranzo, quindi gara bellissima, tutti gli amici che nuotano in acqua e libere, il circuito NAL è un'altra cosa. Il tratto più bello della nuotata dall'inizio alla fine, un mare veramente come dicevo prima bellissimo. Il tratto più complesso per noi che siamo di queste zone e che gareggiamo spesso qui è il tratto finale perché c'è sempre un po' di mare contro e quindi è abbastanza duro. Poi ti arriva dopo 10 chilometri quindi effettivamente è stato un po' due. Però la gioia di nuotare a Castellabate è così forte che anche l'ultimo tratto ci è sembrato fattibile e bellissimo.